E apriamo una parentesi un attimo sui fumetti degli altri, perché siccome siamo a fine anno, e lo fanno tutti, perché non farlo noi, abbiamo un po' zero calcare, cioè che siamo nemmeno degli altri, e non facciamo anche noi questa cosa di quali sono i fumetti migliori dell'anno, a cui tutti faranno tipo, non so, l'evento più spettacolare, lo sportivo, noi facciamo il fumetto dell'anno, pac! E i nostri 6-7 fumetti, chiaramente li hai scelti te, perché noi insomma ne sappiamo poco. È vero o no? Sì. Allora, andiamo a vedere cosa abbiamo scelto. È vero che ne sappiamo poco. No, però andiamo a vedere cosa abbiamo scelto, così diamo anche dei consigli per il Natale, anche perché forse voi non lo sapete, però oggi il ministro di non so per più cosa, però comunque Flavio Zalonato, che è il nostro ex sindaco, che seguiamo sempre, con molta passione e calore, e che salutiamo, chiaramente, oggi ha annunciato che proporrà lo sgavo fiscale se compri tanti libri, cioè chi compra tanti libri va a uno sgavo fiscale, quindi dovrà comprare montagne di libri, che è una grande idea, perché alla Feltrinelli è un risultato immediatamente, naturalmente, e sono bei momenti, insomma, in cui la cultura cresce. Quindi sull'onda di questa cosa noi andiamo a dare sette suggerimenti, così facciamo anche quelli che ne sanno. Dai Zaro, non farci fare brutta figura, che poi si dicono che scelto di librarsi. Già abbiamo detto la parola Zalonato, e guarda con cosa comincia, da Zalonato... Sta roba sembra super ideologica adesso, che è stato un marzo, eccetera. Bellissimo, dopo Zalonato Carlo Marx è verabilitato. È il fumetto più letto da Zalonato, Marx. Ma cos'è questo invece? Se uno lo vede pensa che è una rottura di coglioni infinita, sicuramente. Cos'è questo? Uno, sicuramente se vede sta roba di Marx pensa che è una rottura di coglioni infinita, perché i fumetti di solito che spiegano, i testi anche teorici, eccetera, sono terribili di solito. In realtà quella è una biografia di Marx fatta super super bene, molto carina, anche molto divertente. Io ho il terrore di queste cose di solito, proprio le bolle. Invece queste due attrici qua hanno fatto questo e anche la biografia di Freud, sono uscite insieme per Panini e sono un sacco carine. E quindi in realtà... Quella di Freud mi pare fosse anche la lista dei candidati a Luca Comics, ho sbaglio? Credo... Non so quale delle due. No, secondo me l'altro su Freud, secondo me sì. Sì, sì. Vabbè, in realtà sono fatte molto bene, sono proprio leggere da leggere, danno una spiegazione sia del pensiero sia di Freud che di Marx, ma sono anche proprio divertenti, quindi... Io non l'ho letto, tu l'hai letto Marx? No, però rifiuto di zero alla grande... No, Marx... Hai letto Marx? La prossima va. La prossima, vediamo se l'abbiamo letto. Ah, questo l'abbiamo letto. Questo l'abbiamo letto. Questo ovviamente, nel senso... Tu l'hai letto? Sì, io l'ho letto, l'ho anche semipresentato, eccetera. Per me è un fumetto super importante, è uscito quest'anno perché è un fumetto che parla di una tematica che mi sta super a cuore, che per me è stata anche formativa proprio per la mia vita, visto che poi io la roba della TAV in qualche modo cominciavo a seguirla nel 98 con il suicidio dei due squatter torinesi, sole e baleno, eccetera, quindi mi sta proprio un sacco a cuore tutta quella vicenda. Penso che era anche il momento che venisse raccontata anche a fumetti e non soltanto da cronache, articoli o quant'altro. Poi diciamo che chi l'ha fatto è anche famiglia di questo spazio, eccetera. Quindi, non lo so, io lo consiglio sempre tra i libri di quest'anno. Certo, ringraziamo Claudio Callie per questo libro. Chiaramente. Anche un'altra cosa, mentre aspettiamo il prossimo libro, un'altra cosa che è una querel solita che si legge appunto se si frequentano certi siti, certi blog e così via, è che naturalmente c'è una grande differenza tra chi racconta storie vissute e chi racconta invece storie immaginari. Chi racconta storie immaginarie è un fumettaro, un fumettista. Invece gli altri che sono? Ma bisognerebbe chiedere a loro come si definiscono, nel senso che secondo me le cose hanno pari dignità, nel senso che tutto il filone del graphic journalism ha prodotto delle cose molto molto fighe. Io non lo so, immagino Giosacco si definisca un fumettista, Claudio Gallia si definisce un fumettista. Anche per me, ma appunto, essendo io, ti chiedevo a te, sei tu l'autorità, è un graphic journalism. Io che ne so, guarda. In questo caso sì. Io si, devo dire graphic journalist a Claudio Gallia. Grafic novelist, tu sei un graphic novelist e un graphic journalist. Ragazzi, però a quest'ora non siamo ancora arrivati a capire chi siamo, e cioè siamo... È un problema, è un problema. Andiamo, io faccio le traduzioni dei documentari. Tu fai? Io ancora adesso dico, se mi chiedono che fai nella vita, dico le traduzioni dei documentari di caccia e pesca. Ecco, da domani anche noi ci vendiamo così. Poi cosa c'è? Stavo dicendo, andiamo veloci, invece è impossibile perché stiamo arrivando... Questo è super bellissimo, nel senso che questo qua, considerate che è il fumetto più bello che mi è capitato quest'anno di leggere, se dovete fare un regalo di Natale regalate questo. E c'è anche gli altri che abbiamo detto, però rispetto a un sacco... Cioè, è proprio una roba struggente, commovente, GP è uno che secondo me quando produce qualcosa fa fare uno scatto in più a tutto il settore, in qualche modo, nel senso che tutti si devono confrontare con quella roba nuova che ha prodotto, e quella cosa è bellissima proprio. Prossimo. No, questo l'ho messo così. Cos'è? Qualcuno ha mai visto questo nome? No, mi è piaciuto. L'ho letto... Ma è del 2013? Eh? È del 2013. Sì, sì, è di questo. No, lei è molto brava. A me in generale la letteratura ebraica piace molto, mi affascina anche alcuni aspetti, eccetera. Questa è una storia di famiglia, di eredità, di cose, disegnato con un tratto molto elegante. Non è una roba che ti cattura, particolarmente appassionante, eccetera. Però è una cosa, è proprio un gioiellino in qualche modo, a me è piaciuto molto. Ti sembrava giusto inserirlo? Sì. Il prossimo invece, il prossimo oltre errore... No, questo è bellissimo. Ah, beh, sì. Questo se vi piacciono le cazzatone, eccetera, questa cosa qua è un... Piate appunti, se leggete i fumetti di dove fare Gali Natale. Questa è una storia di fantascienza raccontata esattamente con il ritmo, come se fosse una serie tv, ma pure con... anche con quella giusta dose di ironia, di azione, di storia d'amore, eccetera. Tutto esattamente col format delle serie tv americane. Tra l'altro lo sceneggia Brian Vaughan, che è quello che sceneggia pure Under the Dome, cioè oltre che tantissimi altri fumetti, quindi è uno che poi c'è anche domistichezza con quel tipo di mondo là, e è una figata. Prossimo. Questa è una roba super struggente. Uno spagnolo che vive a Berlino, lui. Spagnolo che vive a Berlino, è un pischello dell'età mia, quindi io ancora mi definisco un pischello, e che racconta il lavoro vero è quello diciamo in opposizione al fumettista. La sua autobiografia è il suo cercare di vivere coi fumetti e il suo dovere invece sempre ritrovarsi a fare un lavoro vero che è quello che gli consente di pagare l'affitto, eccetera. Ci sta la sua epopea, che poi è la stessa mia, nel senso che lui si vede quando va al festival di Angoulême in Francia a fare la fila dagli editori per chiedergli essere... che sono le stesse porte in faccia che mi sono visto sbattere io, sono proprio gli stessi luoghi di pellegrinaggio miei per cercare lavoro degli ultimi dieci anni. Lui, diciamo che questo suo viaggio di ricerca, di riuscire a campare coi fumetti è approdato a questo libro qua, che è il suo primo libro a fumetti vero e proprio e è una roba in cui mi riconoscevo tantissimo in questa epopea infinita per cercare di far cura nella vita.